La perdonanza celestiniana da oltre sette secoli lancia un messaggio di pace, di fraternità, di riconciliazione soprattutto ed è tanto più importante in questi anni di crisi, di guerre che si stanno intensificando. Dio non abbiamo mai conosciuto un mondo e una stagione senza conflitti e senza guerre ma quella degli ultimi due o tre anni, un mondo particolarmente conflittuale con situazioni molto difficili, molto critiche per le quali oltretutto sembra anche difficile vedere la fine. Speriamo che il messaggio universale che parte dall'Aquila, dal messaggio di Celestino possa colpire i cuori anche di quanti sono oggi impegnati in questi conflitti e che possa aiutare questo percorso di riconciliazione.